Spesso vedo e sento le persone fare confusione su che cos'è l'aggressività nel cane. Spesso vedo e sento persone che dicono che il cane ha ringhiato e aggressivo. Certamente, dipende dal contesto della situazione, ma ci sono certi momenti in cui il cane ringhia e sta comunicando in modo più deciso e più forte quello che voleva dire e che ha già detto in altri modi, in altri momenti, ma che non è stato percepito. Questo può accadere con cani docili, con cani calmi, con cani tranquilli o con cani già aggressivi. Ma la cosa bella è che comprendere che cosa fa scattare l'aggressività nel cane, come puoi vedere in questo breve video dove il cane nero manda via il cane bianco e sono due cani maschi, capire che cosa fa scattare l'aggressività quando si tratta di aggressività o comunicazione più diretta e più decisa ti permette di rendere il tuo cane più tranquillo, evitare che si prenda dei morsi o evitare che ne dia e godertelo in modo più sereno. L'aggressività è una dote naturale che il cane ha, perché essendo un animale, un cacciatore, per natura lui caccerebbe per vivere, per cui è una cosa naturale che ha, ce l'ha nel suo istinto, nel suo DNA, nel suo bagaglio di comunicazione. Come vedi anche il cane bianco in questo caso sta tirando fuori i denti, sta ringhiando, ma non è un cane aggressivo e non è un cane cattivo, è solamente un cane che sta comunicando un determinato, una determinata cosa ad un altro cane che non vuole ascoltare. Per cui comprendere che cosa spinge il cane ad essere aggressivo, cosa porta ad avere l'aggressività ridiretta, magari anche nei tuoi confronti, che si gira e ti guarda, magari siete a passeggio al guinzaglio e ti morde invece, o morde il guinzaglio perché non riesce a prendere l'altro cane, insomma capire che cosa fa a diventare il cane protettivo, oppure che quando ti avvicini alle sue cose ti ringhia, oppure che si avvicinano gli ospi ti ringhia, capire che cosa lo spinge a comportarsi in quel modo, ti dà le capacità per risolvere i problemi, per avere un cane educato, per avere un cane sereno. Quello che ti consiglio io è di partecipare al webinar che ci sarà a marzo, proprio sulla aggressività canina, per capire come aiutare il tuo cane a vivere meglio. E se hai un cane aggressivo è ovvio che devi partecipare, mentre se tu non avessi un cane aggressivo te lo consiglio lo stesso perché ti può far capire il mondo canino da un altro punto di vista, ovvero quello del cane, ed è la cosa più bella che ci possa essere.